Musica Eccoci nuovamente in diretta martedì 10 ottobre, prima edizione del nostro telegiornale. Abbiamo già dato uno sguardo ad alcune delle prime pagine dei giornali che troviamo quest'oggi in edicola. Ovviamente grande attenzione da parte di tutti è rivolta alla guerra in Israele, un conflitto che però riguarda davvero tutti, anche il nostro paese. Intanto ci sono dei nostri connazionali bloccati in Israele, sono stati fermati, cancellati tutti i voli, quindi è difficilissimo rientrare nei propri paesi d'origine. E poi comunque ci sono una serie di riverberi rispetto a questa drammatica situazione che riguardano anche l'Europa in generale. Scatta l'allerta anche in Puglia rispetto alla guerra in Israele. Massima attenzione a Trani dove c'è una sinagoga che in queste ore resta chiusa, rafforzata intanto la sorveglianza su tutto il quartiere ebraico della città. Maria Fiorella. Misure di vigilanza e controllo a tutela degli obiettivi legati allo Stato di Israele e al culto della religione ebraica presenti sul territorio. E' quanto disposto in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, riunito a Barletta dal prefetto della Bat Rossana Riflesso, in ottemperanza alla circolare diramata dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno. All'incontro hanno partecipato i vertici provinciali delle forze di polizia e il rappresentante della comunità ebraica di Trani, Michele Parisi. Sono in contatto con amici che abitano lì e quindi che stanno particolarmente preoccupati sia per loro che per loro anche i loro familiari. I luoghi in cui si tengono manifestazioni con cittadini ebrei come il Castello Svevo dove è incorso la mostra di un'artista israeliana sono ritenuti sensibili. La prefettura della sesta provincia ha perciò deciso di intensificare i controlli all'indomani degli attacchi iniziati oltre il confine della striscia di Gaza da parte del gruppo radicale palestinese di Hamas. Trani è una città abbastanza ecumenica e non ha mai subito nessun attacco riguardo la sinagoga oppure qualsiasi organo riguardante la religione. Cambiamo argomento, abbiamo visto prima sui giornali, diventa una polveriera la situazione relativa all'ex Ilva, nessun accordo a scatola chiusa, dicono i sindacati. Ieri ancora attenzioni a Roma e per il prossimo 20 ottobre ha annunciato un nuovo sciopero. Andiamo proprio a Roma nella capitale con il nostro Francesco Manigrasso. Seduti sotto il Ministero delle Imprese e il coordinamento nazionale dei sindacati metalmeccanici, FIOM, CGL, FIMCIS, LEWIL e circa 200 lavoratori da Taranto, Genova, Novi Ligure per chiedere l'impegno del governo e dire basta all'attuale gestione. Il vertice a Palazzo Chigi aveva lasciato l'amore in bocca ai rappresentanti dei lavoratori ma anche al presidente di Acceglieri ed Italia Bernabè che avrebbe intenzione di lasciare l'incarico. FIMCIS e Wilm non hanno intenzione di negoziare dopo che hanno fatto i loro accordi tra di loro. Noi vogliamo negoziare a partire da oggi e innanzitutto fuori dal negoziato. Cioè una cosa che va fatta prima di tutte le altre sono mettere in sicurezza gli impianti e le persone. Noi fermi non stiamo finché il governo non ci riconvoca, meglio di come ci ha convocato due settimane fa quando ha preso atto delle nostre valutazioni e mi ha detto vi faremo sapere. La prossima volta il governo non può dirci vi faremo sapere, ci deve dire e deve costruire con noi il futuro dell'ex Siva. Noi ovviamente siamo d'accordo che non ci debba essere un'amministrazione straordinaria ma non siamo d'accordo su questa gestione, non siamo d'accordo a sostenere chi governa lo stabilimento perché se l'idea è non l'amministrazione straordinaria perché va data la fiducia a chi è continuo a distruggere l'azienda, noi non siamo d'accordo. La difesa della siderurgia come asset primario per il paese, la fine del ricorso, la cassa integrazione, investimenti sulla sostenibilità e sulla sicurezza sono alcuni dei punti chiave su cui i metalmeccanici chiedono una svolta. 2500 lavoratori in cassa integrazione straordinaria sociali, 1600 su cui c'è un'incertezza totale che sono quelli rimasti in carico dell'amministrazione straordinaria e altri 4.500 dell'indotto che appartengono a un sistema totalmente ridotto sull'asso, questa è la situazione. Il resto, quello che vuole raccontare la dottoressa Morselli, fa parte dei suoi blef. Nell'ultimo incontro si è tornati indietro rispetto a quelle che erano le loro proposte, quindi un cambio di governance su tutto l'assetto societario e su chi deve guidare questa azienda. In verità i problemi aumentano, sono sempre gli stessi che abbiamo denunciato dagli anni. Le trattative sono in corso ma per i lavoratori non c'è più tempo da perdere, risultati economici lamentano, sono sotto gli occhi di tutti e dimostrano l'inaffidabilità del managgiamento attuale. Oggi c'è il governo Meloni, la Meloni scendesse in campo, perché non si viene a fare un giro con noi, la Meloni sull'impianti? E non con la Morselli, con noi deve venire a farsi un giro, vi facciamo vedere noi gli impianti decatenti. La gente è sfinita, non ce la fa più, vuole andare via da quello stabilimento. Torneremo più tardi su questo argomento. Restiamo comunque nel Tarantino, visto che parliamo di Siderurgico. Ieri c'è stato un incontro con la stampa da parte del nuovo prefetto di Taranto, la dottoressa Paola Dessi, approccio immediato con le grandi vertenze. Ha parlato proprio della questione ex ILVA e soprattutto ha detto voglio stringere un rapporto stretto con il territorio. Leo Spalluto. Iniziato subito con le grandi vertenze del territorio, l'incarico del nuovo prefetto di Taranto, Paola Dessi, l'occasione per presentarsi ai giornalisti nella sala riunioni della prefettura, precede di pochi minuti l'incontro con la delegazione dell'Associazione delle imprese dell'indotto ex ILVA AIGI in protesta. Il prefetto Dessi è consapevole della delicatezza della questione siderurgico e vuole improntare i primi contatti all'ascolto per una migliore comprensione dei problemi. Il nuovo prefetto infine non nasconde il grande entusiasmo per il nuovo incarico a Taranto. Eccellenza, ha dovuto partire con una giornata molto particolare, con questo arrivo nei prossimi minuti anche dell'IVA. Che opinione si è fatta di questa situazione? Ma è una situazione complessa che merita attenzione e ascolto, nella quale vi sono diverse componenti, quindi l'ascolto diventa fondamentale per capire quali sono le esigenze e poterle anche rappresentare in sede centrale per ogni utile valutazione. Ha sottolineato l'entusiasmo con cui si è affacciata a questo incarico. Sì, certamente, un'esperienza professionale sarà sicuramente molto interessante e l'affronto appunto con l'entusiasmo di chi viene in una terra diversa da quella da cui io provengo e pronta quindi a confrontarsi con le problematiche, con la società viva di questo territorio. Un senza tetto è stato trovato senza vite in un edificio abbandonato a Potenza. A dare l'allarme ai carabinieri sono stati alcuni suoi amici. Sentiamo Francesco Cutro. Non avevano sue notizie e non lo vedevano da diversi giorni nei soliti luoghi d'incontro. Così alcuni amici, anche loro clochard, lo hanno cercato nel posto dove era solito rifugiarsi. Un edificio abbandonato in via Ciccotti a Potenza, plesso in disuso dell'Asp Basilicata, nei pressi del ponte che dall'ospedale San Carlo porta a Rione Parco Aurora, luogo da diversi anni lasciato all'incuria e alla sporcizia. E dopo aver ritrovato il corpo in avanzato stato di decomposizione, hanno subito allertato le forze dell'ordine. Carabinieri, vigili del fuoco ed Asp giunti sul posto hanno potuto solamente constatare il decesso del cinquantenne che a seguito dei primi rilievi sembrerebbe essere morto per cause naturali. Sul cadavere è stata comunque disposta l'autopsia. L'Asp Basilicata fa sapere in una nota che la struttura era in disuso da anni, ma accessibile in alcuni varchi che erano stati forzati e che si è provveduto a far murare alcune aperture che avrebbero consentito ancora abusivamente l'accesso ai locali. Una morte silenziosa, come purtroppo ne accadono tante, soprattutto nelle grandi metropoli, ma che lasciano tristezza e sgomento in una città come Potenza. Continua il botta e risposta a livello regionale tra Azione e il governo del Presidente Emiliano. Il partito che in Apulio fa riferimento a Fabiano Amati scende in campo e critica l'atteggiamento assunto dall'assessore alla sanità Rocco Palese sul no alla legge sugli sprechi nel settore sanità. Gianni Cannalire. Azione scende in campo giudicando incomprensibile il no dell'assessore regionale alla sanità Rocco Palese alla legge sugli sprechi della sanità. Sulla proposta di legge per controllare gli sprechi nella spesa di protesi dispositivi medici, i direttori generali contestano i criteri usati dall'Aggiunta regionale per definire i tetti di spesa ma anche gli obiettivi, che rappresentano i riferimenti usati dalla proposta di azione per sancire la decadenza dei direttori generali qualora non raggiungono i risultati attesi. È quanto dichiarano il consigliere e il commissario regionale di azione Fabiano Amati e i consiglieri regionali Sergio Clemente e Ruggero Mennea. L'assessore Palese dà parere contrario alla proposta di legge, accogliendo anche le obiezioni dei direttori generali. La proposta di legge andrà in consiglio regionale, in vista del quale Azione ha già presentato un emendamento specifico per accogliere gli utili suggerimenti del dirigente della sezione farmaceutica Paolo Stella. Nella speranza, dicono d'Azione, che l'assessore Palese non continua a dare parere contrario perché è in disaccordo rispetto alle sue stesse proposte di deliberazione. Andiamo sul quotidiano, con il nostro touchscreen, vedete sanità, liste d'attesa, asse azione con il Partito Democratico, sulla spesa non paghino i direttori generali, incontro tra Civici e Calendiani su un possibile accordo che riporta in sella la proposta di legge di Amati, bocciato dal Consiglio. Resta il nodo in decadenza, direttori, intanto in commissione nuovo scontro sui tetti di spesa, sui dispositivi medicali. Palese difende i vertici delle ASL, il consigliere dice così disconosce le decisioni della sua giunta. Poi invece la questione dei vaccini, ci eravamo occupati nei giorni scorsi nei nostri telegiornali, vaccinazioni al via da oggi, saranno i medici del Policlinico di Bari a dare via oggi alla campagna di vaccinazione anti-influenzale e anti-Covid-19. Il vaccino anti-influenzale può essere somministrato in sicurezza assieme al vaccino anti-Covid, aggiornato all'ultima variante, le cui forniture sono state affidate alla Regione Puglia, che ha prenotato un milione di dosi di vaccino contro l'influenza. Una prima scorta sarà consegnata domani, verrà poi distribuita ai medici di famiglia. Secondo quanto indicato dal Ministero, gli operatori sanitari sono tra le categorie professionali a rischio per cui è indicata la vaccinazione. Alle 10 il direttore generale Giovanni Migliore e il professore Silvio Tafuri, responsabile della Control Room del Policlinico di Bari, incontreranno la stampa nell'area antistante il centro prelievi. Andiamo ancora avanti, cambiamo completamente argomento, perché ci spostiamo a Brindisi, dove l'attenzione è stata monopolizzata in questi giorni dalla questione stadio, stadio sprint, bene l'escamotage, si gioca un via libera all'ultimo respiro. Il verdetto nella serata di ieri, al termine del lungo sopralluogo, eseguito dalla Commissione Comunale sui pubblici spettacoli, dagli ispettori della Lega Pro, superato lo scoglio dell'agibilità, sia la presenza di 4.600 spettatori all'interno dell'impianto sportivo, corsa al biglietto alle 18.30 di oggi, c'è la sfida con la Juve Stabia, al termine, stiamo vedendo anche le immagini del lungo sopralluogo della Commissione Comunale Pubblico Spettacolo, è giunto il via libera per l'agibilità dello stadio a destra, qui i tifosi in coda, ieri per acquistare il biglietto, mille taglianti polverizzati in pochissimi minuti, ottemperate a tempo di record le prescrizioni sulla messa in sicurezza della struttura e poi accanto, finiti i controlli, è giunto l'ok lunghe code al Play Store per acquistare i ticket di ingresso. E ancora il sindaco Marchion, il grosso è fatto, ultimi dettagli per finire l'opera, la soddisfazione del primo cittadino, ringrazio le ditte, le maestranze, molte delle quali berendisine, l'onorevole Dattis, tutti hanno dato un contributo determinante. Poi il presidente Arigliano esulta, perfetta sinergia col Comune, attendiamo i tifosi. Un'altra impresa targata Arigliano Family & Co, in stretta sinergia con l'amministrazione comunale, si legge sul quotidiano, il Brindisi Calcio ha di nuovo la sua casa, il Fanuzzi promessa mantenuta oggi alle 18.30, la squadra scenderà in campo contro la Juve Stabia. A proposito di questo, è stato fino a tarda ora nel Fanuzzi anche il nostro Davide Cucinelli, sentiamo le dichiarazioni che ha raccolto. Brindisi ha finalmente il suo stadio, arriva il parere positivo da parte della commissione pubblico spettacolo, questa volta del Comune di Brindisi, avvenuta nel pomeriggio di lunedì, dopo un sopralluogo durato circa quattro ore, una lunga attesa che ha permesso però di avere il via libera per far disputare regolarmente alle 18.30 la sfida contro la Juve Stabia, che sarà l'esordio davanti al proprio pubblico per la squadra adriatica. Un match che però dovrà essere con una presenza limitata di spettatori sugli spalti, circa 4.600 il compito totale, compresi 500 biglietti per la tiposeria ospite. La grande soddisfazione ovviamente da parte del sindaco Marchionna e del presidente Arigliano. La commissione si è espressa favorevolmente, anche se con capienza ridotta, si giocherà a Brindisi, Juve Stabia finalmente al Franco Fanuzzi. Per chi magari non riuscirà a trovare il suo tagliando, contestualmente chiediamo scusa, ma quest'anno bisognerà adoperarsi sin da subito per evitare di rimanere senza tagliando. È bello che sia così perché la corsa al biglietto fa affezionare ancora di più la gente. Avremo ovviamente una limitata capienza, credo se non ricordo male, di 4.584 più i posti per i giornalisti e quelli per persone diversamente abili. Questo rinnovato stadio, che peraltro vorrei sottolineare subito dopo questa partita, continuerà ad essere sottoposto ad ulteriori interventi per tutto quello che è previsto da realizzare entro poi la fine di gennaio e il primo giorno di febbraio. Rappresenta un simbolo di questa voglia, di questa volontà complessiva della città di ritrovarsi intorno a un simbolo che in questo caso è lo stadio e la scuola di calcio che ritorna nei livelli nazionali dopo 33 anni. Ci spostiamo adesso a Lecce per parlare di PNRR, quella di oggi in generale sarà una giornata importante, ricordiamo che l'Europa ha sbloccato la cosiddetta terza rata, nelle prossime ore è in programma tra l'altro un vertice a Roma con il ministro Raffaele Fitto per fare il punto della situazione, intanto però la Camera di Commercio di Lecce ha organizzato un incontro con il ministro Fitto per fare il punto sul PNRR. Maria Teresa Carrozzo. La Camera di Commercio di Lecce ha organizzato un incontro con il ministro Raffaele Fitto al quale hanno preso parte i componenti del Consiglio Camerale, le associazioni di categoria, gli organismi di rappresentanza delle libere professioni e le organizzazioni sindacali. L'appuntamento è stato fortemente voluto dal presidente Mario Vadrucci. Oggi le imprese sono qui ad ascoltare, ma anche a interrogare il ministro su quale sarà l'impatto di questi interventi sull'economia in generale, ma sul mondo delle imprese salentine, leccesi, i pugliesi, rispetto anche alla questione che riguarderà i comuni, delle opere che magari sono più a portata delle nostre aziende, delle dimensioni delle nostre aziende, perché le grandi opere come la Napoli e Bari sono opere mastodontiche. Quindi anche questo ci interessa capire come saranno spostati alcuni fondi dal PNRR sull'FSC e su altre forme, come ha detto il ministro. Nel corso dell'incontro sono state illustrate le iniziative del governo, con particolare riferimento alle deleghe ministeriali agli affari europei, politiche di coesione e PNRR, unitamente ad ulteriori tematiche rilevanti per il Salento. Lo sforzo che il governo sta facendo non è solamente quello di mettere a regime la capacità di utilizzo di queste risorse, ma anche collegato al coordinamento con le altre risorse disponibili. Non è un caso che si sia voluto sia nella impostazione della delega di governo che nella fase di attuazione concreta successiva, mettere insieme le risorse del PNRR con quelle della coesione. L'obiettivo è quello di avere una visione d'insieme e cercare di capire anche in base alle tempistiche diverse dei programmi come riuscire a realizzare gli interventi, perché come è noto ci sono delle infrastrutture che hanno bisogno di una tempistica diversa. Il PNRR ha come scadenza giugno del 2026, invece la politica di coesione ha come scadenza il 31 dicembre del 2029. Quindi lo sforzo che stiamo facendo è quello di avere un programma di insieme che possa coordinare al meglio queste risorse. Restiamo a Lecce, ci occupiamo però di politica in vista delle prossime amministrative. Il quotidiano, la politica primaria De Santis detta ai tempi, candidato PD entro sette giorni. Ora patto politico con Salvemini. Ieri a Lecce è direttivo del partito, convocato alla presenza del segretario regionale, al centro del confronto la necessità di superare le divisioni interne tra aree e i tempi di presentazione delle eventuali sfidanti di Salvemini e Patti ai Gazebo. Sul fronte opposto invece destra il vertice slitta, ma gli alleati incalzano, scrive Il Quotidiano, a formalizzare la richiesta di un incontro, i consiglieri comunali di opposizione. Questa è la situazione politica a Lecce della quale poi torneremo a occuparci anche nel nostro telegiornale. Adesso a Foggia, risultato eccezionale per l'Università di Foggia nei ranking internazionali. Balzo in avanti di 200 posizioni nella classifica stilata da due tra le principali agenzie di ranking universitarie a livello mondiale. Antonella Davola. Due tra le principali agenzie di ranking universitarie del mondo non hanno dubbi. L'Università di Foggia è tra le migliori al mondo quando si parla di ricerca, didattica e internazionalizzazione. E considerate la giovaneità, la dimensione dell'Ateneo e l'esclusione di molti altri Atenei italiani dal ranking, i risultati ottenuti, che consentono di posizionarsi nel top 4-7% mondiale, possono definirsi a dir poco eccezionali. Nella classifica di QS Europe University Ranking, l'Università di Foggia registra un ottimo risultato per il tasso di studenti internazionali in uscita e in entrata. La classifica dei Time Tiger Education, invece, che ogni anno compare a 1.904 Atenei in 83 paesi e 13.138 programmi universitari, premia l'Università di Foggia praticamente in tutti gli indicatori. E questo è un dato molto importante e rilevante per noi perché le agenzie di ranking, soprattutto quelle internazionali, sono sostanzialmente la fonte dalla quale gli studenti, i ricercatori, gli enti finanziatori esteri, valutano le università. E noi in Italia abbiamo circa un centinaio di Atenei statali ai quali si aggiungono quelli privati, le università telematiche. Ebbene, di tutto questo bacino soltanto 57 Atenei sono scienziti, ad esempio, dal Times Higher Education e lo stesso dal QS. E su questo noi, come l'Università di Foggia, quest'anno abbiamo fatto addirittura un balzo in avanti del gruppo di 200 posizioni. Quindi dal range 800.000 siamo passati al range 600-800, registrando dei risultati molto positivi nella didattica, nella ricerca, dove siamo sempre stati molto forti, e nell'internazionalizzazione. Quindi spero che questo risultato contribuisca a far riconoscere anche al di fuori del nostro territorio il valore di questo Ateneo che, come ha sottolineato molto spesso il nostro rettore, il professor Lomuzio, ha l'intenzione di aprire il proprio bacino di utenza, a livello nazionale, ma soprattutto a livello internazionale. Andiamo sul nostro sito internet antenasud.com, aggiornato H24 con tutte le notizie di cronaca e non solo. C'è un'ultima ora, frode e somministrazione illecita di mano d'opera nel Barese. Uno strutturato meccanismo di frode fiscale e sfruttamento della mano d'opera è stato scoperto nel Barese dai finanzieri del Comando Provinciale del Capoluogo. Ulteriori dettagli saranno resi noti durante un'apposita conferenza stampa che vedrà la partecipazione del procuratore Roberto Rossi. Ma ulteriori dettagli riusciremo a fornirveli anche nel corso di questo telegiornale. La nostra redazione di Bari con Antonella Fazio che ha battuto la notizia già sul pezzo, come si dice in questi casi, quindi tra poco vi daremo maggiori dettagli rispetto a questa operazione. Adesso andiamo avanti con il nostro telegiornale. un ex carabiniero stonese è stato arrestato perché deve scontare una condanna definitiva a due anni di carcere per pedopornografia. Sentiamo Gianmarco Di Napoli. L'arma lo aveva congedato con disonore e lui aveva trovato lavoro in un locale pubblico di Savelletri, i cui titolari erano all'oscuro del suo passato. Così c'è stata grande sorpresa quando i carabinieri della compagnia di Fasano sono andati ad arrestarlo per scontare una condanna definitiva per pedopornografia a due anni di carcere. L'inchiesta nei confronti dell'uomo, un 51enne di Ostuni, scattò tre anni fa quando era appuntato scelto addetto al nucleo tribunale dei carabinieri di Bari. La polizia postale raccolse la denuncia di due genitori che avevano scoperto che la figlia adolescente con il suo smartphone inviava foto sessualmente esplicite a sconosciuti. La polizia postale accertò che la ragazza era finita in un vero e proprio commercio di foto e video pedopornografici con tanto di listino prezzi per cui le immagini venivano cedute dagli stessi minorenni che venivano pagati con bonifici online. Fra i fautori di questo commercio, l'allora carabiniere ostunese, il quale navigando in siti neozelandesi e russi, era riuscito a procurarsi quasi 98.000 foto e 48 video che ritraevano atti sessuali di minorenni. Fu arrestato con le accuse di detenzione di ingente materiale pedopornografico e peculato. Poco tempo dopo venne congedato dall'arma. I reati per i quali è stato condannato in via definitiva riguardano il periodo in cui prestava servizio in una stazione dei carabinieri della provincia di Bari e successivamente nel nucleo dell'arma al palazzo di giustizia del capoluogo regionale al quartiere Poggio Franco. Ora dovrà scontare l'ultima parte della condanna in carcere. Gli equipaggi di 12 paesi e quasi 100 velivoli si esercitano nei cieli pugliesi, nella base militare di Gioia del Colle, con il nato Tiger Meet la terza volta in Italia per l'evento internazionale di addestramento. Non accadeva da ben 35 anni. Antonio Bucci. Gli equipaggi di 13 paesi diversi si esercitano nei cieli di Puglia con il nato Tiger Meet. Hanno già alle spalle più di 670 ore di volo. La Tigre sulla livrea, disegnata per l'occasione fino a venerdì, si addestreranno nella base di Gioia del Colle, che accoglie il 36esimo stormo caccia dell'aeronautica. Non accadeva in Italia da 35 anni e prima ancora era accaduto soltanto altre due volte. Partiamo ad esempio alla situazione della guerra in Ucraina. Dal primo giorno noi eravamo in volo insieme ai colleghi tedeschi, inglesi e romeni. Lo stiamo ancora facendo in Polonia, in Lituania e questo è un messaggio che va dato anche a chi ci deve ascoltare. Un centinaio di velivoli tra quelli a Dallarotante fissa i decolli di Eurofighter F-18 e Grazia Nise, secondo membro del team italiano. Obiettivo, migliorare prima di tutto il gioco di squadra. In passato, anche durante l'emergenza Covid, il 101 ha compiuto numerosi trasporti con delle barelle di biocontenimento. È stato il primo a poter trasportare le persone su elicottero con delle barelle speciali per il biocontenimento dei pazienti. Gioia è sempre stata e sarà sempre una base di punta. Amendola, che lo era un po' di meno in passato, lo è diventato adesso. Noi lo facciamo per la difesa aerea, ma vorrei anche ricordare, ne sono particolarmente fiero, qui a Gioia del Colle c'è un centro SAR. Voi sapete quello che fanno i nostri centri SAR, anche loro sono 365 giorni all'anno pronti. Adesso ci fermiamo, intanto perché c'è un po' di pubblicità, poi scopriremo insieme anche che tempo farà nelle prossime ore con il nostro meteo. Poi torneremo in diretta ancora con il nostro telegiornale, i nostri approfondimenti e vi mostreremo le primissime immagini del nuovo allenatore del Bari, Pasquale Marino, che tra poco atterrerà all'aeroporto di Brindisi. Oggi in programma anche la presentazione ufficiale da parte del club bianco-rosso. Tra poco. Allora, apriamo un attimo una parentesi dedicata allo sport. Non so se siamo già nelle condizioni di mandare in onda le immagini dell'arrivo, praticamente live, del nuovo allenatore del Bari, Pasquale Marino, all'aeroporto di Brindisi. Marino tra poco sarà, presentato dal Bari. Tra pochissimo vi presenteremo le immagini. Intanto andiamo avanti con il nostro telegiornale. La cronaca. Quattro auto sono andate distrutte ancora nel Leccese. Tre i roghi su cui stanno indagando le forze dell'ordine. Vediamo. Notte di fuoco in Salento, dove quattro auto sono andate distrutte in tre incendi registrati a Nardone, Viano e Lizzanello. Nel primo comune in via Aldomore il rogo ha colpito una Fiat 500. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e del distaccamento gallipolino. La natura dell'incendio resta al momento ancora sconosciuta. Poco dopo, gli stessi pompieri sono intervenuti a Neviano, dove due auto, che si trovavano all'interno dello stesso cortile recintato, sono andate completamente in fumo. È accaduto in via Carlo Levi, dove hanno preso fuoco un Alfa Romeo Giulietta e una Hyundai, intestata a due parenti di 25 e 65 anni. Sull'accaduto indagano i carabinieri della locale compagnia. Nessuna pista, al momento esclusa maladinamica, almeno in una prima fase investigativa, lascierebbe presagire la natura dolosa. Poco prima delle tre, l'ultimo incendio, questa volta a Lizzanello, dove le fiamme hanno danneggiato una Peugeot parcheggiata in via Cristoforo Colombo. Il veicolo è intestato a un 62enne del posto incensurato, ma il mezzo risulterebbe in uso al figlio di 31 alti, coinvolto in due vicende giudiziarie, per reati legati al mondo dello spaccio di stupefacenti. Le fiamme hanno colpito anche il muro del primo e del secondo piano dello stabile, fortunatamente senza conseguenze a persone. Sul luogo sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia leccese per le indagini. Mesagne è pronto a inaugurare nel proprio ospedale un centro residenziale per cure palliative, una struttura sanitaria particolarmente delicata, destinata ai malati terminali. Il sindaco di Mesagne ieri ha preso un impegno preciso, ha detto questa struttura all'avanguardia, sarà a disposizione dell'intero territorio e riusciremo a inaugurarla entro la fine dell'anno. Una richiesta che da tanti anni perviene dalla provincia di Brindisi, dalla comunità, finalmente siamo in dirittura di arrivo e speriamo entro fine ottobre di completare anche gli arredi di questa struttura, poi ci arriviamo all'accreditamento della struttura. L'impegno di tutti è consegnare i reparti entro la fine dell'anno. È tutto pronto nell'ospedale di Mesagne per l'apertura dell'ospice, denominato anche centro residenziale per cure palliative. Si tratta di una struttura sanitaria particolarmente delicata, destinata ai malati terminali. Un luogo di accoglienza e ricovero temporaneo, nel quale il paziente viene accompagnato nelle ultime fasi della sua vita con un appropriato sostegno medico, psicologico e spirituale. Regione Puglia, Asle e Comune di Mesagne hanno fatto il punto della situazione rispetto ai lavori di una struttura che sarà al servizio dell'intera provincia. Speriamo nel più breve tempo possibile di offrire anche questo nuovo servizio, il primo hospice pubblico della provincia di Brindisi. Un servizio ottimo per la comunità, ma per tutto il territorio. I lavori procedono speditamente, quindi speriamo possa aprire quanto prima questo hospice. È un'opportunità per il territorio, per la provincia di Brindisi. Il primo hospice che apre in questo territorio è un intervento necessario. L'hospice è il luogo dove i malati terminali possono essere curati con la cura e la dignità che meritano. Noi ovviamente come amministrazione pubblica faremo in modo di collaborare affinché questo servizio sia eccellente. Le premesse ci sono tutte, la struttura è straordinaria. Dobbiamo semplicemente ultimare i lavori ed inaugurare senza dubbio entro l'anno. E allora, come dicevamo, apriamo una parentesi dedicata allo sport, al calcio in particolare. Immagini live dall'aeroporto di Brindisi, perché poco fa è atterrato a Brindisi Pasquale Marino, nuovo allenatore del Bari. Grazie anche a Francesco Giudice, ai colleghi di Sky per queste immagini. Eccolo qui il suo arrivo alle 7.35, proprio pochissimi istanti fa, nell'aeroporto di Brindisi. Marino è stato accolto da alcuni dirigenti del Bari che l'hanno portato in città. Ricordiamo che oggi ci sarà la presentazione ufficiale. Ha scelto lui, il direttore sportivo Ciro Polito, per sostituire l'esonerato Mignani. C'è anche il comunicato stampa del Bari. Il Bari dà il benvenuto a Pasquale Marino, che dalla giornata di oggi assumerà l'incarico di responsabile tecnico della prima squadra. Ha trovato l'accordo con il tecnico siciliano fino a giugno 2024 con opzione di rinnovo. Nelle prossime ore saranno completate le formalità burocratiche legate al tesseramento. Domani pomeriggio è previsto l'arrivo al San Nicola, quindi il tecnico dirigerà il primo allenamento. Nato a Marsala il 13 luglio del 62, Marino vanta una lunghissima carriera con partecipazioni, come sappiamo, anche e soprattutto tra Serie A e Serie B. E allora, oggi è il Marino Day a Bari. Inizia questo nuovo corso per il club di De Laurentiis. Torneremo dopo comunque su questa notizia, mentre ricordiamo ancora che stiamo vedendo le immagini proprio girate pochissimi minuti fa, perché è arrivato alle 7.35 del rivo del nuovo allenatore del Bari nell'aeroporto di Brindisi, prima del trasferimento a Bari, dove ci sarà comunque la nostra truppa anche ad attenderlo. Andiamo avanti adesso ancora con il nostro telegiornale. Cambiamo argomento, ci spostiamo a Taranto per un question time in consiglio comunale. Mi dicono che dobbiamo andare avanti, ancora non è pronto il servizio. E allora, si chiama Frecciarossa, parliamo adesso di Trasporti, l'iniziativa di Trenitalia per la prevenzione del tumore al seno. Trasporti e solidarietà, ancora una volta insieme, attraverso questa iniziativa. Stiamo distribuendo, insieme al Ministero della Salute, un libricino per la prevenzione che è rivolto a tutta la famiglia, quindi agli uomini, alle donne e ai bambini. La prevenzione viaggia anche sui treni di Trenitalia. Anche in Puglia arriva l'iniziativa dei Frecciarosa. Fino al 31 ottobre, mese internazionale per la prevenzione e la cura del tumore al seno, medici e volontari si troveranno a bordo dei treni ad alta velocità, ma anche sugli intercity e sui regionali per raggiungere un pubblico vasto e diversificato. L'obiettivo è effettuare consulenze a bordo dei treni, con volontari e medici specializzati che forniscono informazioni sull'importanza della prevenzione e della diagnosi precoce. Il progetto ha coinvolto la Puglia già qualche giorno fa con il treno regionale Potenza Foggia, mentre nelle scorse ore l'iniziativa è approdata sul Frecciargento Bari-Roma. Questa iniziativa è volta proprio a sensibilizzare le persone. È Frecciarosa perché nasceva come forma rivolta principalmente alle donne, ma in realtà è rivolta allo screening in generale, che quindi non coinvolge solo lo screening del tumore al seno, ma anche lo screening per il tumore del colon retto e del collo dell'utero. Bisogna fare assolutamente i controlli. Lo screening è fondamentale perché permette la diagnosi precoce e quindi questo può garantire una maggiore possibilità di cura per alcune forme di tumore. Maggiore sicurezza e miglior dotazione delle strumentazioni di lavoro e la richiesta della CGL BAT dopo il sit-in all'esterno della Prefettura di Barletta al fianco delle guardie giurate del territorio. Orari di lavoro complicati, scarsa sicurezza e dotazione di strumenti insufficiente per svolgere regolarmente la professione. Le guardie giurate Pegaso si sono riunite all'esterno della Prefettura di Barletta insieme ai rappresentanti provinciali CGL, chiedendo migliori condizioni di lavoro in un momento delicato per preservare la legalità sul territorio. Le guardie giurate sono un settore altamente a rischio e purtroppo effettivamente questa categoria conta molti morti e molti invalidi. Quindi non dimentichiamo tutti gli attacchi, le sparatorie, ai blindati, sui posti di lavoro. Questi ragazzi sono in prima linea. Per cosa? Per un diritto che non viene neanche riconosciuto, per uno stipendio che arriva sempre in ritardo da oltre un anno e l'azienda continua a disattendere le nostre richieste perché noi abbiamo mandato molteplici PEC all'azienda. Abbiamo tentato tante maniere verbali, bonarie, per iscritto, di solleciti, di difide, ma sono state tutte disattese perché l'azienda continua a utilizzare questo modus operandi che non va bene. Non solo gli assalti ai portavalori dei mesi scorsi, ma anche le recenti rapine negli esercizi commerciali di Trinitapoli. Il sindacato si fa portavoce delle esigenze delle guardie giurate. Non si può portare avanti una vita sociale quando si hanno turni per svariati mesi di 12 ore di notte. Addirittura non c'è neanche il giusto riposo tra un turno e l'altro perché il lavoratore prende servizio, si fa le 12 ore e poi deve ritornare a casa. Quindi calcolando i tempi di arrivo e di rientro alle proprie abitazioni questi ragazzi non hanno neanche il tempo di rifocillarsi, di riposare e poi riattaccare di nuovo il turno. Scusatemi, che vita è questa per 1.100-1.200 euro al mese? Continuiamo a parlare dei problemi di carattere occupazionale, proteste anche a Taranto e i lavoratori della Kratos, cooperativa impegnata in due diversi appalti per Chimambiente, hanno protestato sotto gli uffici della società partecipata. Comincia con il lancio dei fumogeni la protesta dei lavoratori della Kratos, la cooperativa che per Chimambiente e Taranto è impegnata in due appalti diversi, la raccolta degli ingombranti ed il servizio di pulizie di uffici e cantieri. Ci vogliono tagliare le ore, noi stiamo, chi sta a 6 ore, a 5 ore, a 4 ore, prendiamo già uno stipendio di fame già con 6 ore e loro ci vogliono togliere anche questo. Che cosa chiedete? Una sistemazione definitiva. Questi lavoratori hanno un contratto collettivo di gran lunga inferiore al contratto di legge ambientale, hanno il contratto cooperativo e sociale, quindi hanno un trattamento normativo e anche economico inferiore. La seconda parte riguarda invece le lavoratrici e i lavoratori, sempre di Kratos, impegnate nell'appalto delle pulizie di uffici e cantieri. È stata pubblicata una gara d'appalto che prevede una riduzione di oltre il 60% delle ore lavorative. La protesta si svolge all'esterno degli uffici di Chimambiente nel quartiere Paolo Sesto ed il presidente Giampiero Mancarelli decide di ricevere nel suo ufficio una rappresentanza dei lavoratori in protesta. Noi abbiamo chiesto al presidente di Chimambiente quale sarà il futuro di questi lavoratori. Abbiamo garantito alla Kratos di continuare l'attività relativa al fuoricassonetto e agli ingombranti. Per quanto riguarda invece le pulizie, siamo stati costretti a ridurre le attività che invece questa platea di operatori effettua nell'ambito dell'azione di riorganizzazione e di tagli che stiamo effettuando. Certo è, io chiedo responsabilità a tutti perché coloro i quali lavorano non devono temere alcunché. Certo, in questo momento è importante Chimambiente si sta riorganizzando, c'è una ristrutturazione in corso ed è necessario che ciascuno faccia la sua parte. Sulle questioni relative al lavoro, l'altra notizia che ha ampio spazio oggi sui giornali è quella relativa all'indagine sulla bracciante uccisa dal caldo. Andiamo sulla Gazzetta del Mezzogiorno. Vedete bracciante uccisa dal caldo, la procura al contrattacco, trani impugnata l'assoluzione del datore di lavoro, gravi omissioni. La tragedia ad Ander, il 13 luglio del 2015, la Trantina Paola Clemente era impegnata nelle operazioni di acinellatura in un vigneto quando accusò il malore fatale. Il ricorso, il pubblico ministero punta l'indice sull'assenza della catena di emergenza che avrebbe potuto salvare la vita alla donna. In particolare l'articolo, la morte di Paola Clemente, la 49enne Tarantina, abbracciante agricola, deceduta in un vigneto ad Ander il 13 luglio 2015, fu la conseguenza di una cascata di eventi, l'ultimo dei quali consistiti nella mancanza di una idonea catena della sopravvivenza. E' quanto scrive il pubblico ministero di Trani, Roberta Moramarco, nel ricorso contro l'assoluzione del datore di lavoro della 49enne che finì alla sbarra con l'accusa, lo ricordiamo, di omicidio colposo e che invece in seguito è stato assolto. Torniamo un attimo sul nostro sito internet per ricordarvi la notizia che abbiamo lanciato nella prima parte del nostro telegiornale sulla quale stiamo lavorando con le nostre redazioni. Frode e somministrazione lecita di mano d'opera nel Barese, un strutturato meccanismo di frode fiscale e sfruttamento della mano d'opera è stato scoperto nel Barese dai finanzieri del Comando Provinciale del Capoluogo. Ulteriori dettagli saranno resi noti durante una conferenza stampa che vedrà la partecipazione del Procuratore Roberto Rossi, ma avremo ulteriori aggiornamenti anche tra poco nel nostro telegiornale. Adesso ci spostiamo in Basilicata, Potenza con esattezza, ha preso il via con la prima giornata formativa il progetto Cultura e Protezione Civile. Francesco Cutro. Promuovere la cultura della sicurezza e accrescere la resilienza dei cittadini lucani partendo dal mondo della scuola, formando prima i docenti e a cascata gli studenti degli istituti di ogni ordine grado. Sono 24 istituti lucani coinvolti nell'iniziativa della protezione civile con oltre 15.000 allievi distribuiti in circa 900 classi. E' quanto si prefigge il progetto Cultura e Protezione Civile partito ufficialmente a Potenza nell'Aulamagna dell'Istituto Superiore Leonardo da Vinci Nitti. E' un progetto importante quanto ambizioso perché si rivolge a 15.000 allunni di 24 scuole Polo, 900 classi, che vedrà una formazione di questi ragazzi appunto a cascata. Noi infatti formeremo nelle 24 scuole Polo 144 docenti, 6 per ogni scuola Polo, che poi erogheranno in tutto l'anno questa formazione ai ragazzi per sensibilizzarli ai temi della protezione civile. La cultura della protezione civile e della sicurezza deve essere alla base della formazione delle nuove generazioni. Le scuole sono pronte a mettersi in gioco, sono pronte ad avviare questo percorso di formazione rivolta a tutti i docenti delle scuole, i quali a loro volta poi dovranno trasferire e coinvolgere gli studenti in un'attività che non sia soltanto frontale ma soprattutto laboratoriale, che li veda protagonisti del coinvolgimento nell'attività a vantaggio della sicurezza e anche della conoscenza e della sperimentazione della protezione civile. Un'altra ultima ora di cronaca che giunge dal Salento. Nella notte il reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza di Bari e le sezioni operative navali della Guardia di Finanza di Otranto e Gallipoli hanno individuato un'imbarcazione a vela a largo delle coste salentine e diretta verso l'Euca con a bordo circa 40 persone. Tra queste ci sarebbero anche 4 bambini. L'imbarcazione dal nome Edga, priva di bandiera, è stata da prima avvistata dai radar della Guardia di Finanza e poi intercettata da due vedette. Si tratta di un catamarano di 12 metri circa e giungerà a breve nel porto di Leuca scortato dalla Guardia di Finanza. Sono in corso accertamenti finalizzati a individuare eventuali scafisti che possono essersi nascosti tra i migranti e a ricostruire la rotta dell'imbarcazione, la dinamica dell'evento e chiaramente anche la località di partenza. Allora, questa è la notizia, ci stiamo lavorando, così come il precedente aggiornamento di cronaca vi daremo ulteriori aggiornamenti nel corso di questa lunga edizione del nostro telegiornale. Adesso andiamo avanti, stanno arrivando altri ancora aggiornamenti di cronaca, un'app per far risparmiare i cittadini, aiutare le attività commerciali. L'iniziativa interessa per ora il quartiere Santo Spirito di Bari, ma l'idea è di estenderla anche ad altri quartieri. Si chiama Vivi Santo Spirito, l'app che fornisce sconti ai consumatori del quartiere, spendibili all'interno degli esercizi commerciali aderenti all'iniziativa. Un progetto innovativo per il territorio di Santo Spirito, ma l'auspicio è estenderlo a tutto il quinto municipio. Per entrare nel network e iniziare a risparmiare basta scaricare l'app. L'iniziativa è stata presentata alla platea degli esercenti del quartiere di Bari, ma è importante ora la fase divulgativa per far conoscere le opportunità ai cittadini e favorire la crescita delle attività locali. Il principio è quello di fare rete per conservare la tradizione con i vantaggi dell'innovazione. L'idea è di Actes, l'Associazione del Commercio e Turismo e Servizi per Santo Spirito, delegazione di Confcommercio Bari e Barletta Andrea Etrani. Un'applicazione che abbiamo creato come una vetrina di tutte le attività che fanno parte di questo circuito e anche mettendo sempre al centro il consumatore, quindi cercando di utilizzare una formula di cashback per dare degli sconti immediati sull'acquisto. Questo ovviamente è collegato in rete con tutte le attività. Questo ovviamente favorisce il cliente e lo fidelizza con tutte le attività che fanno parte di questo circuito. Ovviamente questa applicazione ha tante potenzialità perché è ovviamente una vetrina dove possiamo comunicare tutte le informazioni del territorio oltre che le nostre personali. Allora c'è ancora un aggiornamento di cronaca questa volta dalla Basilicata che mi segnala il nostro Francesco Cutro, la Polizia di Potenza su disposizione della Direzione Distrittuale Antimafia della Procura della Repubblica del Capologo Lucano sta eseguendo dalle prime ore di questa mattina una vasta operazione antidroga condotta dalla squadra mobile della Questura diretta all'esecuzione di numerosi provvedimenti restrittivi di varia natura e decreti di perquisizioni nei territori di Potenza, Roma, Salerno, Foggia, Reggio Emilia, Lecco e Matera, quindi operazione su scala nazionale. Maggiori dettagli saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa indetta dal procuratore distrittuale, il dottor Francesco Curcio all'ora 11.30 presso la Procura della Repubblica di Potenza. E allora abbiamo anche da approfondire questa notizia in una nottata che evidentemente è stata particolarmente vibrante sul piano dell'ordine pubblico, stiamo cercando di fare chiarezza rispetto a queste tre operazioni delle quali vi abbiamo parlato nel corso del nostro telegiornale. Andiamo ancora avanti, intanto 400 studenti, 500 atleti, per due settimane Taranto, sarà capitale dello sport. Vediamo. 15 istituti scolastici coinvolti con 400 studenti protagonisti delle attività sportive e 200 coinvolti in attività collaterali, 500 gli atleti tesserati delle ASD e delle forze armate. Sono numeri importanti quelli con cui prendi il via il Road to Trofeo del Mare, città di Taranto, dal 9 al 22 ottobre, un ricco calendario di eventi organizzato in città dal Consorzio Mare di Taranto e una serie di collaboratori, a partire dalla Marina Militare e tutti quelli istituzionali del territorio. Questa è un'edizione speciale, un'edizione particolare che fa da raccordo fra la terza e la quarta edizione che si avrà nel 2024. È un evento particolarissimo perché vengono coinvolti tutti gli istituti scolastici del livello superiore. Tre gli obiettivi principali, diffondere e consolidare la cultura del mare, promuovere lo sport tra i giovani, avviare la città ai giochi del Mediterraneo 2026. Ci saranno vela, canoa, canoa polo, canottaggio con sedile scorrevole fisso, stand-up paddle e pesca sportiva. Dopo gli eventi del CLGP, del Dominated Water e proprio dell'etapa mondiale del Nastro Rosa che si è conclusa proprio domenica e che ha suggellato la strategicità del campo di regata naturale che abbiamo qui nel nostro mare, abbiamo voluto continuare su questa scia soprattutto per far avvicinare quanti più ragazzi. Una serata particolare, emozionante per ricordare un uomo, uno sportivo, un grande appassionato del basket. Gianni Donzelli ha dato anime e cuore al basket di Francavilla Fontana e non solo. Al palazzetto dello sport è stata ricordata con un amichevole con il Monteroni la sua figura nelle parole del presidente del basket Francavilla 1963, Luca Mangia, del professore Luigi Camarda, del presidente del Consiglio Comunale Maurizio Bruno e dell'assessore Nuno Ammaturo. Gianni per noi ha rappresentato prima la squadra e poi la società. Ognuno di noi con Gianni ha ricordi indelebili. Io personalmente davvero a Gianni devo tanto, devo innanzitutto la passione e l'amore per questo sport. E soprattutto a lui sono legati i momenti più belli della nostra adolescenza. Ma è stata anche l'occasione per presentare la sessantissima stagione, questa volta in Serie C. Approfittiamo per presentare tutti i ragazzi. Mai come quest'anno abbiamo aggiungito il nostro primo obiettivo, che è quello di aver superato oltre 100 iscritti al minibasket. E questo è il nostro motivo d'orgoglio. Per noi il minibasket è tutto, il nostro fiore all'occhiello. Quindi di questo siamo contenti anche di fare vedere i risultati raggiunti da questo punto di vista. Sono convinto che Gianni di questo sarebbe contento, perché lui ha sempre dedicato la sua passione, il suo amore a questo sport, ai più piccoli, ai bambini. E quindi anche questo è un omaggio per Gianni. Presentati i piccoli del minibasket, il settore giovanile e i giocatori della prima squadra. E allora tutti in campo, i giornalisti di Antenna Sud. Dall'alba di questa mattina andiamo ancora sul nostro sito internet. Come vi dicevamo, ecco la notizia dell'ultima ora. Operazione antidroga a potenza, arresti e perquisizioni in corso. È un'operazione su scala nazionale che sta riguardando i territori di Potenza, Roma, Salerno, Foggia, Reggio, Emilia, Lecco e Matera. Vi daremo ulteriori dettagli più tardi nel corso di questo telegiornale, nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali. Adesso però la linea passa ai colleghi della redazione sportiva, gli ultimi aggiornamenti e poi torniamo in diretta ancora con il nostro telegiornale e i nostri approfondimenti. E tra poco. Rimani connesso. Scarica gratuitamente dagli store o tramite QR code la nuova app di Antenna Sud. Più veloce e con più funzioni per essere aggiornato in tempo reale sulle news di Puglia e Basilicata. Seguire in streaming i nostri programmi o rivederli on demand da qualsiasi dispositivo.